proviamo oggi ad utilizzare questo strumento di lavoro che si chiama GoConcre che ci permette di fare diverse cose creare, scoprire, condividere ed imparare vediamo una funzionalità in particolare quella che serve per creare delle flashcard come sempre avete le due possibilità sign in per accedere dopo aver già fatto la registrazione altrimenti sign up per registrarsi partiamo dal nostro sign up inserisco il mio indirezzo mail la mia password baffetto su iagree e poi join now a questo punto devo scegliere tra tre opzioni student, educator, professional scegliamo student perché voi siete di fatto studenti a questo punto devo selezionare primary, secondary, level scegliamo secondary ovviamente si tratta di una formula americana a noi ci interessa poco ci serve solo per poter andare avanti con le altre funzionalità next step che vuol dire passaggio successivo qui ci chiede di inserire il nome della scuola possiamo tranquillamente scrivere Lanfranco di nuovo next step ci chiede di inserire il nome della materia mettiamo in questo caso italiano exam level mettiamo un 1 anche qui ci serve solo per farci andare avanti e clicchiamo su next step bene a questo punto ci ha detto thank you for signing up cioè grazie per esserti registrato riceverai una mail per confermare ora io non faccio questo passaggio voi comunque andate voi sapete che prima di accedere nuovamente dovete andare sulla vostra casella di post elettronica dove trovate la mail inviata da goconcr cliccate sul link che appare all'interno della mail e verrete reindirizzati nuovamente su questa pagina dicevo io non lo faccio perché richiederebbe troppo tempo faccio il logout così posso accedere direttamente con la mail con la quale mi ero già registrata una volta che appunto vi siete già registrati basta entrare tramite il sign in ribadisco questa prima parte l'ho voluta inserire nel tutorial solo per farvi vedere come quali sono i passaggi della registrazione una volta registrati si accede semplicemente inserendo indirizzo mail e password ricordatevi che se per caso quando vi registrate commettete un errore nell'inserire una lettera quell'errore rimane poi tale se per esempio a posto di Elisa Turrini scrivo Elsa Turrini vorrà dire che tutte le volte mi riconoscerà come errata la mia mail giusta perché se l'ho scritta sbagliata in fase di registrazione poi non posso più il computer la riconosce come tale bene sign in per fare il primo accesso dicevo questo strumento ci permette di utilizzare di creare delle flashcard questo è il vostro dashboard come sempre il vostro punto di partenza qui trovate gli eventuali prodotti che avete già creato vedete qui c'è per esempio uno sulla datazione le località misteriose che erano quelle che avevamo già utilizzato poi qui ce ne sono tante altre che ho utilizzato negli anni precedenti ma a voi interessa sapere come fare a creare un gioco con le flashcard nuovo allora vado ovviamente su create a questo punto mi dà l'opportunità di scegliere tra varie possibilità perché con questo programma scusate con questo web tool posso fare effettivamente tante cose in questo caso facciamo creiamo flashcards poi se volete andare a provare le altre funzionalità lo potete fare flashcard selezioniamo quindi su questo ecco qui compare il livello 0 per creare delle carte delle flashcard fronte e retro la prima cosa che devo fare è andare a mettere il titolo scusate qua untitled devo andare a mettere il titolo delle mie flashcard del mio prodotto mettetelo subito perché altrimenti poi vi crea dei problemi quando dovete condividere titolo può essere per esempio datazione anzi facciamo così gioco datazione tags dovete obbligatoriamente inserire tre tag cioè tre parole chiave quelle che volete l'importante è che le mettiate se no non va avanti datazione scusate ho scritto male datazione invio e vi ha creato il tag gioco invio storie potete mettere anche quelle uguali alle mie o delle altre quelle che volete sempre invio dopo ogni tag dopo tre siete a posto description anche qui è obbligatorio gioco sulla datazione fatto sulla datazione fate questi tre passaggi perché altrimenti non potete andare avanti save bene a questo punto ho dato un nome al mio prodotto l'altra cosa che devo fare subito se no me lo scordo vado su questo simbolino qui che è il lucchetto che mi dice le modalità di pubblicazione bene allora visibility visibilità se lasciate così com'è vuol dire che solo chi utilizza questo programma lo può vedere non va bene dobbiamo farlo vedere a chiunque perché altrimenti non riusciamo a condividerlo mettiamo il pallino su questo worldwide web nel senso che lo possono vedere tutti quelli che accedono ad internet al nostro link il resto lo lasciamo così clicchiamo su close e siamo a posto e adesso possiamo cominciare a lavorare bene ho un fronte la parte davanti back e la parte dietro della mia carta in questo caso quello che dobbiamo creare è un gioco sulla datazione quindi sul fronte devo mettere posso mettere un secolo o l'anno e sul retro la soluzione diciamo così qui potete scegliere front background potete scegliere il colore della parte davanti per esempio sono un amante di questi colori facciamo il fucsia poi potete scegliere il back background cioè il dietro diciamo così il colore dietro in questo caso mettiamo un rosina chiaro per esempio poi texture in realtà questo funziona se non scegliete un colore cioè se volete per esempio utilizzare una pagina a righe o una pagina a quadretti basta selezionare una di queste possibilità sempre queste sono le modalità della carta davanti queste sono le impostazioni della carta dietro poi qui potete scegliere come sempre il font cioè il tipo di scrittura facciamo per esempio questo qui potete scegliere se volete scrivere in bianco o in nero come vi pare io seleziono il nero anche qua seleziono il nero e anche qui seleziono end writing one però qui potete scegliere davvero quello che volete non è un problema cosa scrivo sul davanti mi posiziono col corsore sulla carta davanti seleziono per esempio scusate seleziono per esempio scrivo per esempio quindicesimo secolo scusate quindicesimo secolo ora qui avete anche la possibilità di farlo più in grande e anche più in grassetto ecco così dopo avete la possibilità di scegliere anche le varie dimensioni così guardate ok ecco così diventa un pochino più grandino insomma dopo selezionate voi in base a quello che vi sembra più opportuno quindicesimo secolo magari ci metto anche dc sul retro la soluzione cioè il quindicesimo secolo qua l'epoca comprende quindi dal 1401 al 1499 scusate allora qui potete anche mettere così dal 1400 al 1499 non importa scegliete voi come volete l'importante è che sia chiaro che parliamo deve esserci davanti il 14 e poi anche qui metto sempre ovviamente dc ok bene a questo punto come faccio ad andare avanti con le altre carte clicco su insert flashcard che vuol dire aggiungine un'altra vedete che viene aggiunta un'altra e qui posso per esempio dire scrivo una data precisa 122 dc il 122 dc di quale secolo fa parte fa parte del secondo così secondo secolo dc ok bene allora in questo caso visto che dovete creare un gioco sull'adattazione non mi servono le immagini in altri casi però potrebbe essere utile l'interessante inserire nel retro nel fronte della carta nel davanti o dietro della carta un'immagine come faccio vi faccio vedere come insert flashcard ne aggiungiamo un'altra vedete che c'è qui upload image clicco qui vuol dire che posso caricare un'immagine dal mio computer ci fermiamo qui nella seconda parte del tutorial vi faccio vedere come condividere un'immagine dal mio computer un'immagine dal mio computer è stato un'immagine dal mio computer qui può fare ma qui è stato un'immagine dal mio computer